Taglio del nastro oggi pomeriggio alla Camera di Commercio di Catania per la mostra evento Idee, immagini e segni artisti a Catania 1950-1980 che si protrarrà fino al prossimo 5 maggio a tagliare il nastro nella Sala delle Grida il senatore Enzo Bianco insieme al commissario straordinario dell'ente Dario Lobosco e al segretario generale della Camera Alfio Pagliaro. Si tratta di un'iniziativa coorganizzata dalla Camera e dalla società Antiquaria La Rosa e curata dal perito d'arte Giacomo La Rosa. La selezione di circa 130 tra quadri e sculture per un mese trasformeranno il Palazzo della Borsa in una vera e propria sede di storia e arte in mostra 30 anni di storia del nostro novecento letta attraverso il talento dei pittori e degli scultori catanesi. Il nome originario della Camera di Commercio era quello di Camera di Commercio ed Arti. Il valore della cultura è un valore di bene inestimabile non solo per noi ma per le future generazioni. Io penso che questo occorra fare da parte delle pubbliche amministrazioni, lo stiamo facendo con convincimento e ritengo che Catania sia una città straordinaria e che possa costituire un polo per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno d'Europa. La mostra nasce dal connubio tra la Camera di Commercio e il privato? Sì, da un lato nasce per questo, è vero, perché si dice che il pubblico e il privato non vanno d'accordo. Io ritengo quando le idee sono buone e quando c'è personale preparato professionalmente le cose riescono sempre e questo è un caso tipico, sarei dire. Ma mi permette di aggiungere un'altra cosa, questo evento ha un altro connubio, quello della cultura, della promozione del territorio e dell'imprenditoria. Questa mostra è proprio questo. Possiamo definirla un'inaugurazione fortunata? Sì, senz'altro, ne siamo orgogliosi perché è una cosa importante soprattutto per Catania, per quello che rappresenta per Catania e che potrebbe rappresentare per Catania culturalmente e non solo, ma anche un inizio per altre nuove manifestazioni che portano sempre cultura e promuovono Catania da questo punto di vista. Anche l'allestimento qui alla Camera di Commercio è di tutto rispetto? Certamente sì, è stato un ente istituzionale che ha promosso sempre la cultura in ragione della promozione del territorio e questo ha sempre portato e ha fatto proliferare artisti. Pensa a una nuova collaborazione con la Camera di Commercio? Me l'auguro, spero, ma adesso pensiamo a questa mostra e godiamocela perché sarà aperta un mese non perché l'abbia curata io, ma in effetti è una cosa molto bella per Catania.